Hello guys, this is Joy, welcome back to Mention... Ah, aspettate, è in italiano. Benvenuti sul mio canale, spoiler, capitolo 1073. Abbiamo il full summary, il sommario generale, lo script di tutto il capitolo, non ancora le immagini out, le pictures out. Nella cover subito vediamo i mad, cosa c'è nella cover. Nella cover seguiamo la storia dei mad, dei pazzi scienziati. Ma chi sono questi pazzi? Ci sono i buoni e i cattivi? Chi è il buono e chi è il cattivo? Chi sono i buoni e chi sono i cattivi? Come potete immaginare, come abbiamo immaginato dopo, eh, Ged? Un piccolo ruttino per voi, che siete degli ignorantoni, quei folchi della provincia di Caltanissetta. Con tutto rispetto per la provincia di Caltanissetta. Comunque, i super acculturatoni del One Piece, del One Piece, come che non sanno l'italiano questi, questi youtuber. Comunque, chi è il buono? Il buono e il Vegapunk è in procinto, sta creando come un'invenzione un cannone che spara fuochi, che spara fiori, i famosi fiori sul fucile della Seconda Guerra Mondiale, durante il movimento della guerra in Vietnam, il protestante, protestante no, il protestante è un gruppo religioso dei protestanti che si discosta dal cristianesimo nel corso del Novecento e ha le sue origini nel XVI secolo con Martin Lutero e le tredici tesi apposte... Lasciamo stare la lezione di storia. La facciamo magari nel prossimo decennio, ma non ci sarà il prossimo decennio. Vediamo. Lui che spara questi cannoni nel fiori e il Vegapunk è lo scienziato positivista, nel senso buono, per il progresso dell'umanità. Ma è un eugenetico, ha creato un clone. Come fa a essere un perl'umanità? Eh, l'eugenetico era buona, è buona. L'eugenetica, il migliorare i geni come voleva Hitler, tanti scienziati nel Novecento, nel pieno Novecento, che volevano, parlavano della razza pura e migliorare la razza. È una questione che lascia il tempo che trova in questo sommario. E dall'altro paolo abbiamo invece i cattivoni. Queen? Queen? Scusate, devo cambiare slide, perché quella lì c'è stato un problemino con il microfono disattivato. Vedi, i miei potenti mezzi anti-tecnologici per farmi il sommo buta per impedirmi di registrare il mio commento. Vedi? Questi big youtuber ora mi mandano la Shueisha, come German, mi straicano quella Shueisha. Comunque, nella cover, perché ho mostrato il Serafino? Comunque i cattivoni sono giaggi che creano armi mortali, Ian Beckham, anche invece il buono, che trae il buono, tra virgolette, che crea la vendor machine, la macchinetta che invece di dare il caffè da qualunque tubo di cibo, quindi vuole aiutare l'umanità in qualche modo. Il pacifista, e di là ci sono i guerra fondai, che creano gas micidiali, cloni, cloni mortali, omicidi, omicida, il plurale di omicida è omicida, capito? Impara l'italiano un po'? Imparatelo con me, l'italiano grandioso, eh? Se ci riuscite, se ci riusciamo, se vogliate, se volete impegnarvi abbastanza. Dall'altro lato abbiamo Vegapunk. Dopo la cover, comunque, perché c'è questo Zoro contro Mihawk? E arriva questo Zoro contro Mihawk, Mihawk. Le rematch, ma non è il vero Mihawk, è il Serafino. C'è un clash con Zoro e il Serafino per far vedere quanto Zoro è figo. Sapremo che questi Serafini andranno a scontrarsi con i nostri Mugiwara per vedere la differenza tra, capito, il solito fatto tra il robot che non ha esperienza di combattimento, invece il real combattente che invece ha quel passettino in più che il robot non sa, abbiamo visto già con Dragon Ball, con i Cyborg 17 e 18. Quindi Zoro è più forte del Serafino? Sì, è più forte. Non lo vedremo combattere? No. Non lo vedremo sconfiggere il Serafino? No, perché i Serafini sono per dopo, si aspetta per dopo. Sono stati creati per vicende successive, durante la guerra finale, però hanno fatti fuori, magari qualcuno sopravvive per far vedere che loro migliorano, sono dei ragazzini che migliorano, sono dei bambini pestiferi. Poi ci sarà il match tra Zoro e il vero Mihawk? No. Questo è il mio video. Spoiler, spoiler. Mihawk, Zoro, non avverrà mai, perché Mihawk viene fatto fuori dalla ciurma di Barba Nera insieme a Shanks, gli amichetti di Shanks vengono fatti fuori con lui, cadono dal stage, perché Barba Nera è più forte e poi c'è il Giller, l'assassino di, la pioggia di, come si chiama? Il Giller di, il suo spadaccino è micidiale, è più forte di Mihawk, ma c'è anche il frutto. Lo vedremo, vedremo come Mihawk viene fatto fuori da lui. Dico, una certa gioia, no? Perché la gente pensa che Mihawk sia il più forte del mondo. Sulla base di cosa? Viene fatto fuori da un personaggio che è stato... Mihawk, spoiler, Mihawk. Spoiler, futuro, death, morte di Mihawk. Mihawk viene fatto fuori da un personaggio mostrato quattro volte in tutto One Piece con una sola foto, ma in primo piano. Il carceriere di Impeltau. Che oltre a me viene in una mano, non è importante. Comunque, quindi c'è questo, questo clash. Andiamo a, proseguiamo con Stassio Stussi, che è la Lady Buckingham, Buckingham Palace. Ishi è veramente la Stassi di Buckingham? Yes. Perché Oda fa invecchiare le donne veramente male. Vedi Big Mom, vedi la sirena, il cocoro. Vedi, o di quella al bar era invecchiata bene, ma le vecchie in One Piece. Vedi la Marine Neville, la vice ammiraglia, è invecchiata malissimo, corta. Quindi questo, veramente Lady Buckingham, sì, è la stessa della madre di Weevil. L'originale, la madre di Weevil è il clone. Una super, si sono, una clonona. Rob Lucci, super forte, viene fatto fuori in questo capitolo. viene fatto KO, viene zittito, messo fuori scena da Stassi. Eh, ma com'è possibile? Ma Stassi devono, eh, Oda deve presentare Stassi. La presenta facendola, facendola prevalere su Kaku Boat. Su entrambi, Kaku e Lucci, che erano già stati presentati, erano già combattuti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Stassi c'ha un potere, c'ha un, probabilmente c'ha un vampiro potere. No, guys, Stassi c'ha, praticamente c'ha un frutto, un pipistrello. Frutto pipistrello, magari un antico pipistrello, magari mitologico, magari no. È un semplice pipistrello. Che ha anche, che succhia il sangue, che si ciba. Frutto Mosquito, frutto, eh, Master Mosquito, l'avete mai visto il cartone Master Mosquito? Eh, Master Mosquito, eh, ci sono tutte cule, tutte fighe. Master Mosquito era un grande. Tra, vicino a Kaku e Bebop, come stile, stile di disegno. Ma comunque andiamo, Rob Lucci viene fatto pure, sì, ma è Rob Lucci più scarso di Stassi? No, in generale no, in assoluto no, mai, non avviene mai questa cosa. Non avverrà mai che Rob Lucci è più scarso, viene considerato più scarso di Stassi. Ma qui, in questa particolare circostanza, circostanza, perché Oda i combattimenti li mostra come sono circostanze. Ogni circostanza fa l'uomo ladro. Ci sono distrazioni, Shanks, il fatto di fare il braccio per una distrazione. Le distrazioni sono importanti nelle guerre, nelle vicende reali, distrarsi è fondamentale. Oda, io potrei scrivere un libro sulle distrazioni One Piece, che fregano i personaggi, ma non lo faccio perché siete degli idioti. Ok? Non capire che la distrazione, ma quella è più forte. Eh, dipende dal combattimento, dipende da chi aiuta chi, dove si trovano, dove si... Quanto è in forma all'uno, quanto è in forma all'altro, dopo quale avvenimento avviene, Quanto è importante in funzione del major plot, è importante che il Rob Lucci mostri quanto sia forte rispetto a Stassi più forte? No. È invece il contrario importante. Usate il congiuntivo per poi ci. Muoviamoci. Hot e strong. È superforte, è strong. Sì, è forte, ma non è più forte di Khalifa, della reggicalze Khalifa. Sì, il Cipirone è più forte, ma è più forte di Nico Robin. In questo momento, per l'esperienza, se è un clone Buckingham, maybe sullo stesso livello di Nico Robin o un po' più alta ancora di Nico Robin, perché comunque non sappiamo i suoi poteri ancora. In futuro Nico Robin sarà più forte. A fine saga, a fine One Piece sarà più forte di Nico Robin, ma per ora è più forte in generale, più hot anche Stassi, è più tenebrosa. Nico Robin è tenebrosa, ma non dice niente, non parla. Invece Stassi parla e ha la pistola. La donna con la pistola. E poi un agente segreto, scusate. Clone, figa. Agente segreto, pistola. Cosa volete di più? Dalla vita, se non uno Stassi. Una Stassi si è tutta lì, come la vediamo qui. In reggicalze. E la stessa Bucking, sì. In questo capitolo vengono messe insieme. Vediamo la vera Buckingham Palace, che è invecchiata malissimo, malissimo, con le rughe, tutte le rughe, perché in Giappone, dovete sapere, le Asiatiche, quando invecchiano, ci sono queste rughe, diventano arrepilanti mostri, come di demoni, perché loro hanno questa cosa molto di invecchiamento tradizionale, i Giapponesi, come tutte le Asiatiche e Asiatiche, il concetto di invecchiare arriva molto presto, a 27 anni, se non hai figli, pensano che sei vecchia, e ti vedono come una vecchia. Una vecchia racchia. Racchia racchia. Fag. Faggot. Mi ricordo come si dice in inglese, vecchia racchia. Faggot è questo qui. Oh no, mi bannano, mi bannano. Ma cosa significa? Non ho detto niente. Ah, l'ho detto. Ok. In questo capitolo vediamo Weevil, è stato kidnapped, è stato rapito da... è stato circonciso. Circuito è circonciso. Weevil è uno clone, è un clone venuto male di Vegapunk, è un buon accione, un buon accione, serve sempre per collegare i personaggi. Eh, ma Weevil è più forte di tutti, no, non capite niente. Weevil è scarsissimo. Ma la frutta di sette, no, è per collegare i personaggi, per farlo entrare in gioco. Oda, come la faceva a mettere in gioco questi personaggi, se non con Weevil? È un disturbatore. Un agente disturbatore, Weevil. Ma come non capite niente? Che sapete voi dei disturbatore? La gente disturbatore... Capito? È un connettore Weevil, è come una preposizione semplice. Di, è una di. Ma è la... Sono Weevil di... Se bene. Comunque è stato rapito, ha protetto il villaggio di Sphinx, perché l'inutile Marco della Fenice, che non vogliamo menzionare qui, era fregato, stava lì, asseduto, era fente, stava vomitando, dopo King & Queen, dopo la battaglia con King & Queen, che l'avevano completamente annichilito. Comunque, dopo che il povero Marco della Fenice era stato costretto a direttare Rufi in Wano Kuni, a dirigersi in Wano Kuni, nel frattempo, il villaggio di Weevil era stato attaccato dai Marines, e allora Weevil, del villaggio di Barba Bianca, che conta dieci ragazzini, dieci bambini, perché bambini, perché non genitori, comunque dieci orfani, solo dieci, Marco, il suo ruolo, il scopo della vita di Marco è proteggere dieci bambini in un villaggio semi-deserto. Comunque, a parte di questo, vediamo Weevil che ha protetto i bambini, ha salvato questi bambini, e come ricompensa è stato capito, è stato imprigionato da Ryokogu, Ryokogu che qualcosa fa, almeno mostra che è più forte di Weevil, che è un inutile connettore di Sebek, della genetica, per far vedere i cloni, era lauda l'aveva creato per questo, per introdurre Buckingham, per introdurre questa Miss Buckingham, se no come la facciano vedere, è un personaggio caratteristico, è interessante perché parla di Sebek, parla di eredità, con i soldi di bolloni, i bolloni di ferro di barba bianca, che non c'è niente, che non è rimasto nulla, se non cambiali, cambiali da pagare, e Marco la Fenice, il suo scopo è pagare le cambiali, proteggere dieci bambini, in un villaggio semi-deserto. Comunque, la stessa persona, sì, che è successo al suo corpo, è invecchiato, è invecchiato malissimo, è invecchiato come il tappo di sughero, di sughero, delle vostre bottiglie, di Chianti Zero Zero, delle vostre bottiglie di champagne del 2000, e in questo capitolo vediamo, chiusura magica, questo capitolo, c'è il flashback di Kuma, sì, però non ne sappiamo ancora nulla, quante strappalacrime, il strappa, in questo flashback, vediamo uno dei Gorosei, e questo qui, con i dreadlocks, con i bigodini, è un combattente, per me no, non sono combattenti, sono combattenti, sono abbastanza scarsi, questi Gorosei, sono nobili, sì, sono nobili, e vediamo Chizaru, che parla con uno di loro, lo stanno andando ad Egede, quindi c'è questo qui, che sta andando ad Egede, per fare cosa, per prendersi i serafini, i Gorosei hanno un ordine maggiore in grado, hanno un grado maggiore di ordinanza, di potere sugli serafini, di Vegapunk, e quindi possono dirgli, Serafino, attacca Vegapunk, uccidi Vegapunk, prendi Vegapunk, ok, quello che succederà, e penso che Chizaru difenderà Vegapunk, sembra che Chizaru sia un amico di Vegapunk, o abbia una sua giustizia avverta, verso, sembra, sembra optare per Vegapunk, sedersi sul suo, sul suo suolo, sul suo ruolo, sul suo, sulla sua spalla, ok, Vegapunk, quindi sembra essere aiutato da Verra, sembra, che verrà aiutato da Chizaru, che a questo punto sembra di avere, pare che abbia tentato di assassinare uno dei Gorosei, proprio qui, perché si dice che, un cibo avvelenato è stato dato ai Gorosei, al Gorosei qui, che si chiama Saturno, il pianeta di Saturno, quindi sappiamo anche i nomi del Gorosei, fa una ricerca sul pianeta di Saturno, su Giove Saturnio, sul Saturnini, sui riti Saturnini romani, della divinità greco-romana, delle divinità greco-romane, con Chizaru, sembra che abbia, non si sa se abbia controllato prima questo cibo, e poi i Marine dicono, non ho avvelenato, non mangiarlo, oppure se è stato lui ad avvelenare il cibo, poi ha cercato di darlo al Gorosei, per avvelenato, per non farlo andare a Ghead, ma i Marine, se no, no, aspetta, fammi controllare, non ha avvelenato, sto morendo, quindi il Gorosei non ha mangiato questi snacks, capito, vedremo anche il Gorosei, Bye Bye, e questo è il full commentary, in cui io ho un po', un po' optato per una digressione, degressioni varie, perché vi do un po' di informazioni, che nessuno vi dà, GIOI, ok, nessuno vi dà le informazioni che vi do io, con il linguaggio accurato, furbito che vi do io, ok, e poi la conoscenza di One Piece, nessuno ce l'ha, come me, come mica, come meng, Bye Bye,